Il nuovo allenatore del Bari, Roberto Stellone, con De Rosa avrebbe a disposizione un giocatore ambivalente, come seconda punta ma anche nel ruolo di esterno offensivo nel 4-2-4 adottato dall'ex tecnico del Frosinone. Riportare De Luca a Bari per la terza stagione di fila non è solo un'idea ma qualcosa di più concreto, sulla base di una trattativa che potrebbe confezionarsi in un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore abbandonerebbe l'idea di andare a Crotone per giocare in Serie A, suo obiettivo principale, ma per riprovarci con il Bari. Ieri in città è arrivato Francesco Fedato per unirsi all'attuale organico a disposizione. Da oggi vi ha i test atletici prima della partenza prevista per giovedì prossimo nel ritiro di Bedollo. Ma il mercato estivo per il Bari di Giancaspro non si ferma qui, tra i nomi più gettonati, ma sono solo ipotesi, c'è quello del laterale sinistro Longhi, svincolatosi dal Sassuolo, disoddimo fantasista del Frosinone di Caccia, attaccante in forza all'Ascoli. Lo staff tecnico guarda con particolare attenzione anche al centrocampista Rizzo e all'esterno offensivo Perugini. Tra i desiderata del Bari potrebbe esserci il centrocampista albanese Bascia e l'esterno brasiliano Martigno. Per quanto riguarda invece i calciatori in uscita, Perugia potrebbe essere la destinazione di Valiani e Arezzo per Caturano. L'estremo difensore Guarna chiuderà invece la sua avventura in bianco-rosso.